Il giornalerà, il Vivi Centro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Il giornalerà, il Vivi Centro Network. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network Vivi Centro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.